Facciamo una dimostrazione Un normale peso massimo produce in media 750 libri per pollice quadrato Qualunque cosa colpisca la distrugge Signore e signori, benvenuti al Nevada Springs Hotel di Las Vegas L'evento principale di questa sera è un'esibizione di pesi massimi tra fuggili di due grandi nazioni Man in alto testone Tu perderai Se lui muore, muore Io non posso essere sconfitto Io non posso essere sconfitto Non posso essere sconfitto Non posso essere sconfitto Io non posso essere sconfitto